Ho incontrato, si vede già dai bimbi, l'accoglienza in un venerdì pomeriggio ormai invernale al vescovo non per la persona che io sono ma per il compito che io svolgo e la gioia dei bambini, dei genitori, dei nonni e l'impegno che loro traducono ogni giorno come condivisione, come costruzione di socialità, insomma quando si viene in queste periferie si capisce che la nuova Milano verrà da qui, non c'è nulla da fare perché se non c'è una base di popolo che affronta l'esistenza con tutte le sue contraddizioni, basta pensare alla famiglia che abbiamo visitato adesso con tre bimbi piccolissimi di cui uno diversamente abile e l'altro gravemente ammalato la letizia, la gioia in questa casa, un'umanità intensa, quella che noi non abbiamo più non abbiamo più come adulti e non abbiamo più come figli di un'epoca consumistica che rischia il neopaganesimo se non ritrova, rischia di tornare agli idoli se non ritrova un senso, un gusto, si viene qui e lo si respira subito perché è la vita reale questa è la vita reale e senza la vita reale l'uomo non cambia, non cammina, non cresce però queste cose io le dico con la testa riflettendo ma è lui che è il parroco che le può dire in una maniera reale appunto e quindi questo è un segno di grande speranza per Milano